Benvenuto nel nostro laboratorio artigianale della bottega del fungo. Oggi ti portiamo nel cuore della nostra produzione per mostrarti come creiamo il nostro ragù con carne biologica del consorzio Valtaro e Vacello. La prima fase del processo è un'attenta e accurata selezione di verdure fresche che serviranno per preparare un ottimo soffritto. Infatti utilizzeremo le cipolle, il sedano, le carote e il prezzemolo. Allora abbiamo finito di lavare e tagliare le verdure, ormai siamo pronti per iniziare a fare il soffritto. Ma il segreto del nostro ragù risiede nell'ingrediente principale. La carne biologica che utilizziamo infatti proviene dal consorzio Valtaro e Vacello, una carne di altissima qualità che conferisce al nostro ragù un sapore unico e inconfondibile. Allora, abbiamo terminato la cottura della carne, adesso aggiungiamo il pomodoro e così finiamo il nostro ragù. Grazie a tutti. Il nostro ragù ormai è pronto. Ha veramente un profumo, un aroma molto invitante. Non ci rimane che metterlo nei vasetti, pastorizzarlo e poi se vuoi provarlo lo puoi venire ad acquistare alla Bottega del Fungo in via nazionale a Borgotaro oppure sul nostro sito bottegadelfungo.it. A presto, ciao! Ciao!